ciao e ben ritrovati dire che uomini e donne sono uguali è pericoloso non guardatemi così non l'ho detto io ma l'ha detto questa youtuber che si chiama luce che fa rima con boh trovate una rima voi il video in questione è questo perché dire che uomini e donne sono uguali è pericoloso le donne non sono abbastanza forti sono infatti notoriamente il sesso debole rispondiamo intanto a questa domanda uomini e donne sono uguali queste sono quelle belle domande filosofiche tipo è nato prima l'uomo o la gallina sono meglio le bionde o le more comunque la domanda non ha alcun senso perché è evidente che uomini e donne non sono uguali non è che c'è da farci un dibattito non sono uguali gli uomini tra loro e le donne tra loro figurati i due sessi contrapposti prima importante ed evidente differenza l'uomo ha il bip e la donna la bippa e se non gliela da l'uomo si fa una pi trovate voi la rima la donna ha il ciclo l'uomo no grazie la donna partorisce l'uomo no e inoltre l'uomo ha mediamente una forza fisica superiore di una certa percentuale non la so di preciso 20 30 per cento fate voi si parla qui di forza muscolare pura su queste differenze non ci puoi fare niente poi ci sono altre differenze che hanno però più un'origine culturale e quelle sono abbastanza relative perché dipendono dal periodo storico dei singoli casi e così via quindi tra uomini e donne ci sono tre tipi fondamentali di differenze la prima è quella che chiamerei differenza riproduttiva e qui i casi sono due o stai di qua o stai di là e non c'è niente da fare la seconda e che a dire del vero ho messo per terza prima ma mettiamola per seconda è la differenza di tipo culturale e qui si può fare ogni tipo di lotta per la parità per cambiare la società la mentalità essere progressisti conservatori è quello che uno vuole la terza differenza è quella della forza muscolare quest'ultima è ben diversa sia dalla prima che dalla seconda intanto perché a differenza della seconda è una differenza oggettiva che non si può cambiare non si tratta quindi di una differenza culturale dovuta agli stereotipi di genere eccetera e su questo penso che siamo d'accordo con luce ma è diversa anche dalla prima in quanto non si tratta di una dicotomia o maschio femmina quindi la forza fisica non è che o ce l'hai o non ce l'hai si tratta infatti di un valore numerico semplificando molto la cosa che è diverso per ogni persona maschio o femmina che sia è solo il valore medio degli uomini che è superiore al valore medio delle donne analizziamo ora quello che viene detto nel video secondo me ci sono delle evidenti imprecisioni che vi andrò ad illustrare e anche alcune cose su cui non sono d'accordo come opinione personale partiamo gli uomini sono molto più forti delle donne o almeno in media la prima cosa da osservare qui è che se consideriamo la forza muscolare come un numero con una scala arbitraria c'è una bella e grande differenza tra dire la forza delle donne 70 e quella degli uomini e 100 e invece dire la forza delle donne 70 e quella degli uomini e 58.000 purtroppo invece noto come nei canali anti walk per intendersi questa differenza sia esagerata a livelli grotteschi e poco credibili come se una donna ti tira un cazzotto sul naso con la rincorsa e tutta la sua forza e non ti fa niente e tu uomo la tocchi con un dito e questa esplode vengono mostrati questi video dove una donna anche abbastanza forma cerca di spostare un oggetto non si muove di un centimetro poi arriva l'uomo mingherrino li fa tac e questo vola di 10 metri non è molto realistico non è che gli uomini sono degli orchi giganteschi e le donne delle fatine fragili come farfalle non mi prendere la coppia con lui un metro e 80 per cento chili di muscoli e lei 45 chili e non mi prendere neanche la campionessa olimpica di oggetto del peso e un ragioniere secco e ossuto prendimi un uomo e una donna a pari merito se così si può dire stessa età entrambi abbastanza sportivi ma digiuni di arti marziali 6 centimetri di differenza in altezza 10 chili di peso e vedrai che sì c'è una differenza di forza apprezzabile ma non è così enorme poi cosa si intende per in media vuol dire che se prendiamo la forza di ogni uomo e le mettiamo in fila queste si distribuiranno con una distribuzione classica di tipo gaussiano o a campana o normale che dir si voglia cioè con una media la maggior parte della popolazione che è compresa tra valori standard e poi una piccolissima coda di persone estremamente deboli e un'altra di persone estremamente forti la stessa distribuzione varrà per la popolazione femminile solo che la media sarà più bassa però ci saranno molti molti casi di donne più forti di uomini bene scusatemi per queste noiose precisazioni matematiche e andiamo avanti con il video soprattutto cerchiamo di capire una cosa nel titolo c'è scritto dire che uomini e donne sono uguali è pericoloso quindi vuol dire che qualcuno sta negando questa differenza qualcuno vuole negare le differenze biologiche tra uomini e donne e chi è questo qualcuno e perché lo starebbe facendo semplice perché questo fatto biologico non è in linea con la narrativa walk non va bene se vogliamo diffondere il nuovo messaggio per diversi motivi per diffondere il nuovo messaggio tutti quanti devono credere che uomini e donne siano uguali devono credere che le donne possano fare tutto quello che fanno gli uomini e che gli uomini possono fare tutto quello che fanno le donne e addirittura adesso le persone devono credere che gli uomini siano donne e che le donne siano uomini l'obiettivo è il caos non deve avere senso in un'opera di convincimento durata qualche decennio ormai una buona parte della popolazione si è convinta che questa sia la realtà sì ma chi è che sta ordendo questo complotto da decenni dovresti anche specificare questo se no non si capisce si tratta dei templari dei rettiliani e a quale scopo lo farebbero dici che vogliono confondere le popolazioni per generare il caos e poi cosa forse distruggere l'umanità allora sono demoni ora vedi io rispetto tutte le teorie ed è vero che ci sono interessi economici che tra i liconi c'è gente strampalata che sette strane che vogliono fare chissà che cosa però dico solo perché non concentrarsi sugli argomenti sulle frasi dette da qualcuno sul esporre quelle che sono le proprie idee invece di tirare in balo gli illuminati che tramano nell'ombra per generare il caos satanico secondo me non si perderebbe incredibilità in questo modo comunque questa era solo la mia opinione rispetto quella di tutti tornando nel merito qui hai fatto un bel minestrone e si vede nelle immagini la donna muscolosa che fa la box poi quella vestita da dirigente poi l'uomo col pancione come fosse incinta per la cronaca si tratterà di una donna incinta vestita quindi cosa vorresti dire che essere a favore del superamento degli stereotipi di genere equivale a dire assurdità tipo che un uomo può rimanere incinta il genere non è il sesso è così come l'affettività e l'amore non si esauriscono nell'atto procreativo poi vorresti far credere che dire che possiamo fare le stesse cose equivale a dire che siamo uguali non è così e soprattutto vorresti dire che fare le stesse cose significhi farle allo stesso modo non è così uomini e donne sono uguali sì di fronte alla legge come dice la nostra costituzione come ogni cittadino hanno gli stessi diritti uguali diritti non è che sono uguali fisicamente le differenze tra i due sessi sono per l'appunto il sesso e questo gap di forza fisica media ma a parte queste due cose certo che sì le donne possono fare tutto quello che fanno gli uomini gli uomini possono fare tutto quello che fanno le donne le donne possono farsi tutti gli uomini tutte le donne gli uomini possono farsi tutte le donne e tutti gli uomini nei limiti delle loro possibilità ovviamente quindi se un uomo vuole mettersi la gonna e il rossetto e una donna vuole farsi crescere i baffi e guidare il camion in che cosa ti starebbero danneggiando a te che succede i rettiliani si sentono forti si gasano ci buttano le bolle di energia non so spiegaci e veniamo quindi al cuore del video perché sarebbe pericoloso affermare che uomini e donne sono uguali semplice perché a causa della decennale propaganda woke moltissime donne stanno entrando a far parte dell'esercito e dei vigili del fuoco cosa che secondo luce è una pessima idea perché parliamo di questioni di vita o di morte se sei dentro un edificio in fiamme dove ci sono porte da sfondare o travi da saltare devi poterti fidare ciecamente dei tuoi colleghi una donna di 55 kg cosa dovrebbe fare in quella situazione come potrebbe essere utile la mia obiezione non è verso la partecipazione delle donne di per sé il mio problema è con il fatto che i requisiti di accesso sono stati diminuiti notevolmente per permettere alle donne di accedere a queste posizioni gli standard dovrebbero essere gli stessi per tutti se non ce la fai non è lavoro per te non viviamo nel mondo delle fate in cui tutti i sogni diventano realtà la realtà esiste e a volte la realtà decide per noi in guerra poi secondo me è completamente assurdo mettere delle donne in prima linea non ha assolutamente senso anche qui gli standard sono più bassi per le donne ma la guerra è uguale per tutti e non guarda in faccia nessuno a cosa servi se sei troppo lenta e scoordinata e non riesci a portare lo zaino e svieni ogni cinque minuti per lo sforzo dire che uomini e donne sono uguali a questo tipo di conseguenze donne che mettono in pericolo loro stesse e gli altri luce luce perché hanno abbassato i requisiti per entrare in un corpo militare lo hanno fatto per farci entrare delle donne quindi questo cosa significa che sanno perfettamente che le donne hanno mediamente meno forza degli uomini infatti i requisiti non sono stati abbassati per tutti ma solo per le donne sono stati messi dei requisiti diversi per loro ora secondo te i vertici dei comandi militari dei vigili del fuoco sono tutti stupidi ed ingenui e hanno bisogno che tu dall'alto della tua camerete e della tua pluriennale esperienza sul campo vada ad avvertirli dei pericoli che ci sono mettendo una persona non idonea in una certa situazione il tutto poi condito da questa retorica del non viviamo nel mondo delle fate esiste una realtà come se fossero tutti scemi a parte te torniamo sul pianeta terra per favore e abbassiamo la sticella della presunzione intanto tu forse confondi la donna di voghera con una donna militare addestrata c'è una bella differenza mi ricordo che una volta dovevo tirare su un mio parente che era caduto in terra e che all'epoca aveva perso completamente l'uso delle gambe ci ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito poi ci siamo messi in due ma lo stesso non ce l'abbiamo fatta quando arrivata l'ambulanza è scesa un'infermierina che non era né grossa né tanto alta che l'ha preso e l'ha tirato su in un batter d'occhio perché perché sapeva la tecnica giusta che bisogna usare in quel caso insomma stiamo parlando di professionisti che fanno questo lavoro da una vita vuoi che non sappiano cosa quella ragazzina in grado di fare cosa no è chiaro che ogni persona uomo o donna che sia verrà impiegata in base alle sue capacità e al suo fisico quindi tranquilla se una donna entra nell'edificio in fiamme insieme ai suoi colleghi e perché è preparata a farlo e ha una forza fisica superiore alla media delle altre donne altrimenti si occuperà della logistica guiderà il camion se in grado di farlo userà l'idrante farà un lavoro d'ufficio si occuperà della salute psicologica dei suoi colleghi che magari saranno più contenti di confidarsi con una figura femminile una donna può essere utile anche proprio perché è diversa dagli uomini la diversità è ricchezza se saputa sfruttare ovviamente e sia in una guerra che nella gestione di un'emergenza ci sono tante cose diverse da fare e tante abilità e sensibilità richieste non c'è solo e soltanto da spostare e rimuovere pesi così come nell'esercito non ci sono solo i rambo in prima linea e in ogni caso anche restando solo sulla prima linea un reparto aggiuntivo ben coordinato di donne che fa fuoco da un'altra direzione secondo te è inutile magari gli diamo uno zaino e un'arma un po più leggeri e se c'è da spostare un peso meglio due uomini a spingere o due uomini più una donna insomma il tuo ragionamento da qualunque parte lo prendi non ha molto senso pratico secondo me avrebbe senso solo nel caso della ragazzina di 50 kg che entra senza requisiti e la mette al posto dell'uomo di 100 ma non lo fa nessuno tranquilla e questo era tutto per oggi spero di essermi fatto capire di avere tranquillizzato un po tutti vi saluto e ci vediamo domani